Si svolta questa mattina presso il Museo archeologico nazionale di Ponte Cagnano, in via Lucania, la conferenza stampa di presentazione dell'evento da Vicenza ai Picentini, nuovi percorsi per l'ecomuseo dei Picentini. La manifestazione è organizzata in occasione della terza edizione della giornata nazionale del paesaggio, indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'evento, promosso dal Museo di Ponte Cagnano in collaborazione con le Gambiente Campania, enti locali e associazioni culturali e ambientaliste del territorio, si pone in continuità con le iniziative intraprese nelle scorse edizioni, finalizzate alla costituzione dell'ecomuseo dei Picentini. Quest'anno noi proponiamo, in diretta continuazione con lo scorso anno, un percorso che abbraccia tre territori comunali diversi. L'anno scorso abbiamo visitato San Cipriano Picentino, Giffoni Secasali e Giffoni Vallepiana, quest'anno invece ci spostiamo a Olevano sul Tusciano, Monte Corvino Rovella e Monte Corvino Pugliano. L'intento è sempre quello di coniugare in questi percorsi che verranno fatti sia a piedi che in bicicletta o in mountain bike, perché i nostri partner, oltre al Lega Ambiente, sono anche le associazioni CAI, FIAB, quindi Federazione Italiana Amici della Bicicletta, mountain bike. Dicevo, l'intento è quello di andare a coniugare i percorsi naturalistici, quindi con la possibilità di apprezzare le bellezze paesaggistiche del nostro territorio, abbinarli con la visita a monumenti e attrazioni storico-artistiche e archeologiche particolarmente importanti e che forniscono l'identità del territorio dei Picentini. L'ennesima conferma è che il museo archeologico si apre alla città e al territorio. Sì, ormai le nostre attività sono tante in questa direzione, questo grazie al supporto non solo delle amministrazioni comunali, in particolare del comune di Ponte Cagnano-Faiano, che diventa nella nostra visione dell'ecomuseo dei Picentini proprio la porta ideale, ospitando appunto il Museo archeologico nazionale, diventa la porta ideale dei Picentini. E poi grazie a questo ventennale rapporto che ci lega a Legambiente Campania e a tante associazioni culturali del territorio. Per esempio una di queste che si sta costituendo paesaggi narranti è un'altra delle anime che con noi lavora alla progettazione proprio dell'ecomuseo dei Picentini. Appuntamento alle ore 8.30 di domenica mattina 17 marzo, qui davanti al Museo archeologico nazionale da cui partiranno tutti i percorsi in auto con un breve tratto a piedi e anche in bici proprio per i nostri itinerari sui Picentini.